Le carezze, gli abbracci, le parole di speranza, la preghiera per ogni paziente. Così il Papa è tornato a vivere i suoi venerdì della misericordia, visitando prima il pronto soccorso e poi il reparto di neonatologia dell'ospedale San Giovanni di Roma, dove sono ricoverati circa 25 bambini con varie patologie. Cinque di loro, tra cui due gemelli, versano in gravi condizioni e si trovano in terapia intensiva. Francesco è entrato anche qui, indossando camice e sovrascarpe di plastica, sottoponendosi a tutte le precauzioni igieniche per il rispetto degli ambienti asettici. Quindi si è soffermato davanti alle incubatrici, benedicendo e pregando per ciascuno di questi piccoli pazienti, ma non ha dimenticato di abbracciare le famiglie e i genitori provati dalla malattia dei propri figli. Al piano superiore del reparto ha poi visitato il nido e benedetto altri bimbi appena nati. Terminata la visita al San Giovanni, il Papa si è recato all'ospis Villa Speranza, struttura del Policlinico Gemelli, dove sono ricoverati 30 pazienti in fase terminale. Anche qui ha salutato i pazienti letto per letto, regalando ai malati e ai loro parenti momenti di intensa commozione. Con questo venerdì della misericordia, fatto sapere la sala stampa vaticana, il Pontefice ha voluto dare il segno forte dell'importanza della vita, dal suo inizio fino al suo termine naturale, e ha impresso il sigillo concreto di quanto sia fondamentale per vivere la misericordia l'attenzione alle situazioni più deboli e precarie.